Signor Procuratore, Capiero De Raola, ringraziamo molto per questo colloquio che ci concede e intendiamo inaugurare l'azione di questa nostra rivista discutendo a fondo sulla cultura, su come declinare al massimo la possibilità della cultura come strumento preventivo per tutti i fenomeni di corruzione e mafiosità della nostra società che macchiano, offendono la nostra società e la nostra democrazia. In questo senso la rivista si colloca su un piano preventivo, quindi avremmo, come si dice, combattere la mafia e la corruzione con la cultura. Benissimo, in termini concreti cosa significa? Significa istruire ed educare e quindi intendiamo informare il pubblico su fondamenti istruttivi fondamentali sulle mafie e quindi inauguriamo in questo modo e la ringraziamo veramente. E partire dall'attualità, partire dalla pandemia che è il fatto eclatante della storia contemporanea e quindi le mafie stanno sfruttando la pandemia. Che cosa sta succedendo? Le mafie sfruttano ogni occasione e in particolare le emergenze. Laddove vi è un'emergenza le mafie riescono da essa a trarre un rafforzamento, a trarre nuova ricchezza, a sfruttare al meglio le occasioni, come dicevo poc'anzi. Cosa avviene in questo periodo? Partiamo dal presupposto che le mafie, per le attività criminali che sviluppano non solo sul nostro territorio, nel nostro paese, ma a livello internazionale, riescono a sviluppare una ricchezza enorme e quindi la ricchezza determina liquidità, una liquidità che necessariamente deve essere poi reinvestita. Infatti le mafie utilizzano una parte di quella liquidità per continuare a sviluppare i traffici criminali, un'altra parte invece per inquinare, infiltrare l'economia. E' proprio questo il profilo di maggiore pericolosità. Anche perché le mafie hanno sostanzialmente cambiato il loro modo di operare. Ricordiamo gli anni 92, 93, 94, gli anni delle stragi, ancora prima, gli anni degli omicidi, degli uomini appartenenti alle istituzioni, alla polizia, alla magistratura, imprenditori, collaboratori di giustizia. Via via però tutto questo è cambiato. È cambiato e hanno assunto invece un nuovo ruolo, che è soprattutto quello di infiltrazione dell'economia. Le mafie oggi tendono a mimetizzarsi, a rendersi invisibili, per cui utilizzano la violenza e l'intimidazione come extrema razio. Invece, soprattutto, tendono a utilizzare soggetti economici, che di volta in volta costituiscono o acquisiscono sul territorio, non solo nazionale, ma anche all'estero. Quindi, come dire, anche attraverso l'usura in questo momento di grave crisi sociale con la pandemia da coronavirus, naturalmente, come dire, hanno gioco facile, per così dire, ad acquisire... In questo momento, infatti, da un lato tendono a costituire quelle strutture di base che sono finalizzate a sostenere le fasce più deboli della nostra società, perché attraverso di esse creano consenso sociale e non solo consenso, ma riescono anche a operare con il reclutamento delle nuove forze e quindi approfittano dei momenti di maggiore povertà, di maggiore disagio sociale per poter entrare nei quartieri nei quali è più sentita la sofferenza di questi momenti. Questo già consente di allargare la propria capacità di presenza. Noi a volte ci chiediamo, ma com'è possibile che laddove c'è stato un inseguimento della polizia di soggetti che appartengono a organizzazioni mafiose, poi si nota che dai quartieri si pongono in essere comportamenti che tendono a ostacolare l'arresto, con lanci di oggetti contundenti, tutto quello che avviene e questo è il frutto di quell'azione costante, di apparente sostegno che è finalizzato ad avere poi quel consenso sociale che determina laddove è necessaria poi una sorta di collaborazione, non solo. Questo è evidente che avviene nei quartieri, ma altrove l'usura, le liquidità che possono essere invece investite, consentono alle mafie non solo di utilizzare soggetti economici di nuova Costituzione, che attraverso intermediari riescono di volta in volta a rendere presenti sul territorio, ma soprattutto ad acquisire società che sono in decozione o in difficoltà, in grande difficoltà economica. E questo rappresenta il rischio più elevato, perché mentre i nuovi soggetti economici in qualche modo possono essere monitorati, ed infatti è proprio sulle nuove costituzioni di società che il maggiore monitoraggio è sviluppato nel periodo della pandemia, così come nelle variazioni sociali, attraverso anche convenzioni con lo stesso ordine dei notai, così come con altre strutture, si riesce a comprendere quel che avviene sui territori in l'intero nostro Paese. Laddove invece con l'usura, con l'investimento delle liquidità, si acquisiscono silenziosamente gestioni di attività economiche presenti tradizionalmente sul territorio, è lì che diventa più difficile scoprire la presenza mafiosa. E questa è probabilmente l'occasione migliore per le mafie, quella di manovrare soggetti economici che da sempre hanno operato nello stesso settore, ma che oramai hanno sostanzialmente svuotato la loro capacità di gestione per trasferirla invece ai soggetti mafiosi. Ecco, con l'arrivo dei fondi del Recovery Fund, come potrebbero approfittarne le mafie di questa notevolissima quantità di fondi? Attraverso i soggetti economici che hanno costituito e quindi la partecipazione agli appalti. Le mafie hanno già costituito soggetti economici presenti nei vari settori, per cui ogni qualvolta vi è la possibilità si presentano con le loro società, che sono società peraltro non solo di emanazione mafiosa, ma anche società che con quelle di emanazione mafiosa hanno stipulato una sorta di accordo e in questo le mafie sono particolarmente capaci, perché riescono a fornire alle società e ai soggetti economici servizi illegali. I servizi illegali sono il tramite attraverso i quali le mafie aggregano alle loro strategie soggetti economici apparentemente sani o che sono stati sempre sani e che però in momenti di difficoltà hanno bisogno anche di utilizzare determinati servizi. Mi riferisco per esempio alle false fatturazioni che consentono quindi anche alle società sane, in momenti di difficoltà, di portare avanti i loro bilanci e sottrarre una parte delle loro redditi al fisco. Però attraverso questi servizi illegali si crea una sorta di compromesso, per cui la società sana che ha acquisito un servizio illegale finisce per essere aggregata in un circuito di illegalità che viene di volta in volta poi utilizzato quando è necessario. E per tornare agli appalti, anche lì la parte più difficoltosa da smascherare è laddove vengono costituiti i cartelli di società, vale a dire numerose società, di cui alcune sono di emanazione, come dicevo, mafiosa. Altre invece sono società apparentemente sane, che però hanno stipulato questa sorta di accordo e questa sorta di accordo consente di creare cartelli molto ampi che quando partecipano alle gare d'appalto finiscono per aggiudicarsi automaticamente l'appalto e con rotazione attraverso una regia mafiosa che è alle spalle dei cartelli stessi si ha una distribuzione degli appalti stessi fra i soggetti che hanno partecipato al cartello e quindi alla fine tutti sono soddisfatti della loro partecipazione ma nello stesso momento chi subisce le conseguenze di un circuito di illegalità di questo tipo sono le società estranee a questi giochi mafiosi e nello stesso tempo lo Stato o gli altri enti pubblici che hanno convocato le società per l'appalto. Ecco quindi nella cognizione, nella coscienza più o meno pubblica c'è l'idea che l'imprenditore il commerciante paga il pizzo al mafioso, quindi questo sistema qui in cambio della protezione diciamo questo sistema ricattatorio e minaccioso è stato superato cioè ci potrebbe essere una sorta di collaborazione tra un agente, un attore economico e l'organizzazione criminale? Questo è qualcosa ancora di diverso, l'ulteriore modalità che le mafie utilizzano per controllare il territorio il pizzo è difficile che venga pagato da soggetti che operano in determinati territori del centro o nord Italia per pagare il pizzo è necessario che l'organizzazione mafiosa abbia assunto il controllo del territorio e questo avviene nel sud di Italia, nel nostro paese nel centro e nord solo laddove l'organizzazione si è mossa con una capacità di intimidazione e si è radicate sul territorio, cosa per la verità che le numerose indagini hanno evidenziato in diversi comuni del nord e centro Italia e solo in quelli che possono utilizzare il metodo del pizzo che non è solo una forma di arricchimento ma è anche una forma di controllo del territorio per far sentire la loro presenza e la capacità di condizionare e intimidire le mafie chiedono il pizzo a volte in alcuni territori del sud il pizzo consiste nel pagamento anche di una modica somma ma essa stessa è dimostrativa dell'assoggettamento quindi del riconoscimento da parte del soggetto che paga della forza della mafia e la mafia, Andrangheta, Camorra, le varie mafie hanno bisogno di questo che sul territorio ci sia il riconoscimento della loro forza abbiamo ricordato come ogni anno la strage di Capaci, Giovanni Falcone ecco come sono cambiate strutturalmente le organizzazioni mafiosi da allora proprio le strutture di ciascuna mafia sono sicuramente cambiate enormemente e sono cambiate proprio nel senso che oggi i mafiosi sono imprenditori sono numerose le intercettazioni nelle quali si evidenzia che il vero mafioso oggi deve essere un grande imprenditore tanto più è imprenditore quanto più è mafioso e quindi c'è quasi una corrispondenza per cui si è riconosciuti come grandi mafiosi quando si è in grado di gestire numerose attività economiche ma basta pensare che questa modalità è una modalità già presente dagli anni 70 anni 80 laddove sia Cosa Nostra che la stessa Camorra aveva almeno in quelle organizzazioni più strutturate la capacità di organizzare attività economiche poste quasi sullo stesso piano delle attività criminali attività economiche che consentivano di infiltrarsi negli appalti ma appalti importanti attraverso imprese che erano state già costituite allora dalle mafie e in mancanza di una capacità di contrasto come quella attuale allora le imprese erano portate avanti dagli stessi parenti dei mafiosi quindi era per la verità più facile contrastarle ma ancora non vi era diciamo prima che Giovanni Falcone e gli altri magistrati che assunsero un nuovo metodo di contrasto alle mafie non vi era ancora questa consapevolezza delle mafie imprenditrici pensiamo al sacco di Palermo e quindi quegli imprenditori mafiosi che hanno costruito in quella città fin dagli anni 70 e negli anni 80 pensiamo a tutte le costruzioni che sono state fatte attorno a Napoli nel periodo del post terremoto laddove le imprese della Camorra si sono impossestate totalmente degli appalti facendo poi saltare i prezzi degli appalti moltiplicandoli per dieci rispetto a quelli di partenza con una serie di accorgimenti l'andrangheta invece in quel periodo era piuttosto dedicata ai sequestri di persona pensate agli anni 70 e quindi il grande investimento dell'andrangheta era rappresentato dal sequestro di persona e tenere una persona in sequestro determinava grandissime spese oltre che un enorme rischio riuscirono però a capire apprendendo questo da Cosa Nostra che all'epoca gestiva il traffico internazionale dell'eroina aveva laboratori, vere e proprie raffinerie per arrivare all'eroina ecco l'andrangheta si comincia a organizzare per poter gestire la cocaina e fin dagli anni 80 comincia a infiltrarsi nel settore del traffico di cocaina tanto che già dagli anni 80-90 troviamo andranghetisti che vanno a spostare la loro residenza in Colombia in diverse città della Colombia o in Costa Rica o in Venezuela cioè vanno nei paesi dove essi stessi possono gestire con un contatto diretto con i produttori come dire, esiste ancora la cupola per Cosa Nostra la commissione di Palermo o per la Camorra una struttura, come dire, orizzontale di vari gruppi in lotta tra loro senza una gerarchia come ai tempi di Cutolo o l'andrangheta che ha queste indrine divise che si incontrano solamente al santuario di Polsi esistono ancora queste strutture? Così ci sono ancora? Beh, delle strutture centralizzate per Cosa Nostra si tendono a ricostituire infatti la commissione provinciale si è tentata di ricostituirla già due anni fa diciamo subito dopo la morte di Totò Riina e a Palermo si tende a ricostituire quella commissione le indagini oggi sono molto più veloci molto più capaci di monitorare i cambiamenti e quindi fin dalle prime emergenze si è riuscita ad intervenire per trarre in arresto coloro che l'avevano costituita e subito dopo vi è un ulteriore tentativo ancora a Palermo e ancora una volta vi è altra indagine che ne consente l'arresto di coloro che avevano assunto che stavano per assumere queste cariche nell'ambito della commissione provinciale l'andrangheta ha comunque invece un organismo centrale un organismo centrale che viene costituito con il voto dei capi Cosca che hanno naturalmente maggiore forza nell'ambito dei rapporti dell'andrangheta e delle attività criminose pensiamo per esempio che l'andrangheta attraverso questo organismo centrale governa anche la disciplina e le modalità attraverso le quali si può arrivare ad aprire un locale diciamo il locale e appunto quella organizzazione che viene istituita e formata su un territorio per poter aprire un locale in qualunque parte del nostro paese ma anche all'estero è necessaria un'autorizzazione una legittimazione un riconoscimento ed ecco che interviene un organismo centrale per dare l'assenso e pensi che addirittura l'andrangheta ha una capacità di controllo che si proietta in Canada come in altri paesi anche in Canada laddove sembra che siano operativi almeno 50 locali ognuno di essi ha almeno 50 aderenti quindi già vi è un numero molto sostanzioso di presenze e anche gli esponenti di quei locali partecipano alle elezioni dell'organismo centrale un'indagine che è stata sviluppata in Canada qualche anno fa la quale ha partecipato anche l'Italia evidenziava appunto che i andranghetisti canadesi avevano partecipato all'elezione dei componenti dell'organismo centrale detto crimine che appunto veniva eletto dai capi Cosca dell'andrangheta in Italia e negli altri paesi in cui vi erano gli esponenti dell'andrangheta di vertice e questo dimostra ancora una volta come vi sia un collegamento stretto fra tutte le locali che sono costituite nel mondo e questo è anche il come dire il metro di quale capacità abbia l'andrangheta di di controllare e di essere presente come rete se pensi per esempio che nei porti del nord Europa l'andrangheta è presente con le proprie reti di ricezione per il traffico della cocaina e questo consente poi di trattare la cocaina in parte attraverso le importazioni nel nord Europa in parte con importazioni nelle varie coste italiane gioia tauro livorno ma anche altri sono i porti in cui arriva la sostanza stupefacente in ogni porto l'andrangheta ha la sua rete di accoglienza dell'importazione e in ogni luogo in ogni territorio italiano o estero apre attività economiche partendo dai bar dai ristoranti per poi allargarsi in tanti altri settori un'altra considerazione che mi sembra importante fare è come l'andrangheta abbia la capacità di collocarsi nei vari territori entrando proprio con attività economiche che consentono il rapporto con il cliente il bar il cliente che prende il caffè spesso comincia a parlare con il colui che gestisce il bar altrettanto avviene per i ristoranti questo consente all'uomo di indrangheta che ha aperto l'attività economica di instaurare relazioni e queste relazioni poi vengono proiettate negli interessi che l'andrangheta ha di infiltrarsi negli appalti e quindi di conoscere assessori o imprenditori o coloro che in quel momento sono utili per allargare la rete relazionale che poi consentirà all'andrangheta di infiltrarsi in quel territorio attraverso poi la costituzione di altre attività economiche o attraverso il rapporto di amicizia con soggetti che esplicano gestione amministrative pubbliche è vero signor procuratore che si potrebbe dire che la forza delle mafie è fuori dalle mafie perché le organizzazioni mafiosi si avvalgono di una borghesia mafiosa di una rete di relazioni non direttamente mafiose ma infatti i traffici criminali sono traffici oramai consolidati collaudati e quindi su di essi loro oramai non hanno alcun problema per ampliarli per svilupparli le loro reti relazionali con soggetti che operano nelle varie parti in varie parti del mondo sono oramai fondati su sistemi anche di comunicazione criptatica che consentono il messaggio immediato e quindi il sostegno delle loro strategie i traffici criminali avvengono con il semplice messaggio e gli strumenti che oggi sono utilizzati sono strumenti sempre più inaccessibili alle indagini il 5G peraltro sarà uno strumento è uno strumento che determina grande difficoltà a rilevare i contenuti delle comunicazioni e non solo esistono poi degli strumenti di comunicazione in cui l'andrangheta come le altre mafie si addentrano che sono quelli capaci di consentire comunicazioni criptate quasi impossibili da scorgere se non attraverso sistemi di decriptazione particolarmente difficili da poter applicare questo per sottolineare come le mafie abbiano sempre più per quanto riguarda i traffici criminosi sistemi ben ben come dire oramai ben consolidati e sotto invece il profilo della loro infiltrazione nell'economia delle proiezioni a raggera per cui entrano nei vari settori in cui hanno già costituito società e sono in grado di operare attraverso poi relazioni che legano le varie società nei vari paesi nel mondo i loro traffici coinvolgono società che sono costituite in Asia in Europa in America e a volte anche nell'ambito delle transazioni commerciali utilizzano i loro riferimenti presenti in vari paesi nel mondo e quel che è emerso anche dalle ultime indagini che sono state sviluppate in relazione a questo periodo di pandemia e quindi all'esigenza dei dispositivi di protezione individuale da dove vi era la necessità di acquisirne in numero rilevante sono state appunto individuate diverse società costituite in parte in Italia in parte in Asia in parte in altri paesi e le transazioni per l'acquisto di questi dispositivi passavano attraverso società presenti in vari paesi proprio per rendere impossibile l'individuazione l'identificazione della rete che partecipava al traffico girando per le scuole e le università nella mentalità corrente si fatica a capire questo doppio e distante livello da una parte si pensa che i capi delle organizzazioni amafiose siano ancora collegati a una società agro-pastorale per così dire e poi si vede che le loro proiezioni arrivano nella grande finanza mondiale come è possibile che abbiano conciliato questi due livelli distantissimi innanzitutto diciamo che questa loro arretratezza la si evidenzia soprattutto nei luoghi di origine laddove vi è una sorta di replica della tradizione quasi è necessario mantenere come dire lo stesso livello di vita perché esso peraltro asseconda una serie di regole tra le quali la unità familiare il rispetto delle regole a volte sono regole che sembrano appartenere veramente alla preistoria proprio perché disconoscono ogni avanzamento culturale e questo è necessario per mantenere proprio saldo il comando il controllo in alcuni territori ma al tempo stesso lo svolgimento di attività criminali particolarmente produttive di ricchezza come il traffico della droga in primo luogo determina una grande ricchezza che consente alle mafie di utilizzare consulenti particolarmente esperti attraverso i quali poter poi costituire quella struttura economico imprenditoriale che è la parte al momento più significativa delle mafie e attraverso quella struttura riescono a gestire imprese società nei vari settori di volta in volta lo stesso settore prescelto è stato a volte determinato dalle emergenze pensiamo all'emergenza dei rifiuti oppure pensiamo alle imprese di costruzione che sono state costituite dalle mafie proprio nei periodi del terremoto e della ricostruzione via via laddove vi è stata necessità hanno costituito quei soggetti economici nei quali riversare le ricchezze che provengono dall'attività criminosa è certo però che questa come dire divaricazione fra la tradizione una tradizione che dimostra tutta la retratezza apparente delle mafie rispetto alla proiezione soprattutto economica e l'avanzato uso delle tecnologie più moderne costituisce l'aspetto di maggiore importanza per le mafie stesse e d'altro canto le mafie si affermano oggi proprio grazie alla capacità di sfruttare al massimo la capacità imprenditoriale come dicevo i mafiosi oggi ritengono di essere dei grandi mafiosi se sono anche grandi imprenditori e quel che poi è apparso anche da alcune indagini è che alcuni uomini di mafia mentre sono capaci di gestire il potere criminale con la forza e la violenza che le è proprio poi sono capaci al tempo stesso di portare avanti quegli stessi soggetti che poco prima hanno gestito il traffico di droga o si sono infiltrati nell'ambito dell'economia utilizzando l'intimidazione poi sono capaci di investire anche somme significative nell'ambito di altre attività economiche e pensare allo sviluppo delle loro società come grandi imprenditori ecco questo probabilmente è l'aspetto che ancora più riesce a caratterizzare le mafie moderne la capacità di conciliare cioè l'antico la tradizione con il moderno la proiezione nell'economia la capacità di infiltrarla di costituire reti in grado di partecipare ai grandi appalti e probabilmente è proprio questa la connotazione che rende le mafie di oggi più moderne come si entra a far parte della mafia e come si sale come si fa carriera diciamo dentro una mafia per fare carriera nell'ambito di un'organizzazione mafiosa è necessario avere la capacità di gestirla ma prima ancora avere quella connotazione che fa salire nell'ambito della considerazione mafiosa il soggetto che è l'affidabilità e quindi essere legato all'organizzazione e essere in grado di riscuotere fiducia e stima e nello stesso momento essere in grado di utilizzare lo strumento della violenza unitamente a quello della capacità imprenditoriale chi riesce al tempo stesso a utilizzare questi due strumenti fondamentali queste due capacità via via sale ma quel che però non può dimenticarsi è che l'ereditarietà soprattutto in cosa nostra come nell'andrangheta ha un rilievo del tutto particolare il figlio di un capo già assume un livello molto alto nell'andrangheta per esempio laddove la successione viene garantita innanzitutto dalla partecipazione allo stesso nucleo familiare e d'altro canto questo è uno dei motivi per cui rompere la successione familiare proprio nell'ambito della gerarchia andranghetista costituirebbe lo strumento per poter finalmente indebolire l'andrangheta così come cosa nostra è uno dei progetti in cui la stessa CEI è coinvolta con Libero e appunto Liberi di scegliere che tende proprio a rompere la successione ereditaria familiare che esiste all'interno di ciascuna organizzazione ciascuna cosca andranghetista e dovrebbe offrire alle mamme che intendono portare i loro figli al di fuori del contesto andranghetista o mafioso una alternativa di vita diversa e questo progetto ha dato oltre 50 esperimenti tutti positivi tutti che ancora oggi sono attuali e che consentono di guardare a progetti di questo tipo come gli unici strumenti attraverso i quali si potrà arrivare a debellare effettivamente le mafie nel momento in cui si riuscisse a far comprendere che vivere al di fuori del contesto mafioso è sicuramente meglio che vivere all'interno cioè avere la capacità e la libertà di scegliere di poter avere una vita serena poter avere amicizie e pensare ad una formazione una crescita culturale siano effettivamente strade non solo percorribili ma di maggiore soddisfazione e probabilmente un domani consentirà all'andrangheta la mafia alla camorra tutte le altre organizzazioni di guardare al futuro in un modo diverso laddove si dovesse sfaldare questa successione familiare ereditaria che esiste all'interno delle organizzazioni mafiose probabilmente si potrebbe raggiungere il grande risultato dell'indebolimento delle mafie dal punto di vista culturale quindi una donna madre di un bambino che è figlio di un capo mafia può naturalmente una donna che vuole abbandonare quella vita viene condannata a morte suppongo esattamente infatti c'è il tentativo laddove sono in corso gli esempi ai quali ho fatto poc'anzi riferimento vi è la volontà di recuperarle per riportarle nel contesto mafioso e questo però viene evitato grazie alla rete che si è costituita il protocollo che dà vita e sostiene questo progetto vede oramai la partecipazione oltre che della CEI e dell'associazione libera che cura direttamente le relazioni dei soggetti che si allontano nei contesti mafiosi anche del ministro dell'interno del ministro della giustizia del ministro dell'istruzione e del procuratore nazionale del procuratore distrettuale interessato appunto alla singola vicenda Signor procuratore che cosa definisce una mafia cioè cosa che differenza c'è con il crimine organizzato per esempio le mafie le organizzazioni criminali latinoamericane si possono considerare mafie e che differenza c'è tra mafie e criminalità organizzata le mafie hanno delle connotazioni molto particolari delle connotazioni che sono da identificare soprattutto nella capacità di controllo nella capacità di intimidazione nella capacità di assoggettamento per arrivare alla stessa configurazione della fattispecie di associazione mafiosa che oggi punisce le mafie sostanzialmente si è portato avanti uno studio con la partecipazione di illustri luminari della scienza giuridica di grandi magistrati Giovanni Falcone Paolo Borsellino Rocco Chinnici i grandi magistrati che sentivano l'esigenza di distinguere la mafia dalle altre associazioni per delinquere e individuarono appunto questi elementi come gli elementi capaci di fotografare esattamente l'organizzazione mafiosa un'organizzazione cioè che attraverso la semplice forza di intimidazione determina l'assoggettamento e l'omertà sembrano termini che in qualche modo appaiono slegati tra loro però guardi come invece sono in grado di fotografare esattamente quella che è l'operatività di un'organizzazione mafiosa l'intimidazione che non è già la minaccia è la capacità di fare paura di intimorire che soltanto un'organizzazione che è ben radicata e che ha un metodo di di violenza un metodo di capacità di intervento ha la capacità di sfruttare la forza può usare da un lato dall'altro questa intimidazione poi si esprime sul territorio in modo da determinare un assoggettamento nelle persone laddove opera un'organizzazione mafiosa nessuno si permette di contraddire o contrastare quell'organizzazione perché sa che quell'organizzazione potrebbe rendere attuale la propria capacità di punire di usare violenza e nello stesso momento coloro che temono l'organizzazione per il metodo che utilizza e per la forza di cui dispone mantengono servono il silenzio più assoluto su di essa nessuno si permette di parlare di quella organizzazione ma nella mia esperienza ricordo che laddove venivano sentiti testimoni essi avevano paura addirittura di pronunciare il nome dell'organizzazione mafiosa anche il nome nel momento in cui ne pronunciavano il nome calavano talmente il tono della voce da rendere addirittura impercettibile la pronuncia di ciò che avevano detto in quel momento il timore era tale che non si permettevano proprio di parlarne ma nemmeno in un colloquio personale diretto non registrato quindi ecco questa è l'intimidazione quindi la capacità che ha la mafia la mafia riesce a zittire coloro che sono che vivono in un certo territorio e d'altro canto è proprio quella forza che finisce per consentire alla mafia di controllare il territorio e permettersi di entrare in un'attività economica e pretendere ciò che chiede e nessuno si sottrae e d'altro canto quando si guarda quest'altro elemento l'omertà essa la si rileva sui territori dove le mafie operano per il silenzio e per la mancanza di denuncia nonostante l'invito che ripetutamente viene portato avanti nei territori dai procuratori della repubblica dai comandanti provinciali delle forze di polizia a denunciare anche tutti insieme nessuno mai pur subendo pressioni di ogni tipo porta avanti progetti di denuncia di questo tipo quindi per così dire controllo del territorio al tempo stesso minaccia e consenso come dire io minaccio ma al tempo stesso richiedo il consenso della popolazione e quindi per così dire sono delle forme che sono sia alternative contro lo Stato che è il potere pubblico legale visibile sia come dire tendono a creare una contiguità con lo Stato a fondersi a non entrare in contrasto diretto sono sia in contrasto che non in contrasto la mafia ha questa capacità determina paura nella popolazione che deve essere assoggettata ma al tempo stesso tende a stringere relazioni soprattutto con le persone che contano e quindi con le istituzioni con coloro che possono essere utili per migliorare la posizione dell'organizzazione mafiosa e quel che ne connota oggi infatti una delle finalità che le mafie appunto tendono a conseguire è l'acquisizione di appalti e l'acquisizione comunque di profitti ed è proprio la modalità attuale delle mafie che le guarda come che le le espone come soggetti che investono e al tempo stesso tendono a allacciare rapporti con le pubbliche amministrazioni nei territori comunali questa è la prima finalità che le mafie tendono a conseguire proprio perché attraverso la relazione che riescono a allacciare poi è possibile conseguire l'ulteriore risultato di ottenere appalti e questa è una delle finalità che peraltro la nostra stessa legge che punisce l'associazione mafiosa prevede una pluralità di finalità che sono tante finalità tutte corrispondenti al modo di operare le mafie e al modo di infiltrarsi nella stessa società come nell'economia come nei rapporti con la politica esiste solo in italia il reato di associazione mafiosa o anche all'estero per esempio negli Stati Uniti come no esiste soltanto in italia il reato di associazione mafiosa in nessun altro paese e questo ancora una volta grazie a quei magistrati che avevano rilevato l'impossibilità di contrastare le mafie attraverso le altre fattispecie che pure erano state previste ho avuto nel periodo del mio uditorato cioè quando sono entrato in magistratura la fortuna appunto di partecipare a quei grandi dibattiti che erano portati avanti da magistrati che ho poc'anzi menzionato come altri che affrontando quotidianamente la tematica del contrasto alle mafie si rendevano conto dell'insufficienza del fattispecie che erano previste allora in data anteriore al 1982 la fattispecie di associazione mafiosa è infatti istituita per la prima volta con la legge 13 settembre 1982 numero 646 è una legge peraltro che fa un passo in avanti nel contrasto alle mafie straordinario perché prevede da un lato questo nuovo reato l'associazione mafiosa dall'altro prevede la confisca dei beni ai mafiosi e quindi contiene due grandissime innovazioni e d'altro canto erano innovazioni per le quali si era battuto enormemente più la torre che proprio perché stava portando avanti questo progetto di legge di grandissimo contenuto culturale nell'ambito del contrasto alle mafie viene ucciso nell'aprile del 1982 quel progetto di legge resta in parlamento peraltro ancora diversi mesi fino a che ai primi di settembre viene ucciso il prefetto della chiesa ed è allora che il parlamento capisce che quella legge è urgentissima e il 13 settembre la prova è una legge che contiene queste due grandissime innovazioni che nessun altro paese ha seguito quindi nessun altro paese ha la fattispecie di associazione mafiosa nessun altro paese ha le misure di prevenzione e quindi la confisca dei beni come misura di prevenzione quindi nel momento in cui un'organizzazione mafiosa ha il tratto distintivo dell'intimidazione del controllo e della minaccia su un territorio è evidente che le organizzazioni mafiose in termini sociologici non sono solamente quelle italiane ma sono anche quelle latinoamericane per esempio la mafia nigeriana eccetera eccetera ecco in questo senso se negli altri paesi non c'è reddita associazione mafiosa che come dire stabilisce un livello giuridico superiore rispetto al crimine organizzato allora nel momento in cui come lei ha detto le mafie ormai rappresentano un fenomeno globale e globalizzato la repressione cioè la risposta degli stati che limite incontra se non ha questi strumenti unitari di fronte a un fenomeno ramificato nel pianeta con la convenzione di palermo che vede l'adesione di 190 paesi che per la prima volta il mondo porta avanti l'esigenza di dover contrastare il crimine organizzato transnazionale attraverso delle forme che fossero condivise da tutti i paesi e la convenzione di palermo prevede la possibilità di contrastarlo in tutto il mondo perché sono ben 190 ne restano credo 5 o 6 paesi che non hanno aderito tutti i paesi hanno condiviso la esigenza di adottare alcune forme di collaborazione e di cooperazione giudiziaria e al tempo stesso alcune specifiche fatti specie e fra queste appunto quella riguardante il crimine organizzato quella riguardante il riciclaggio quella riguardante l'esigenza di contrastare il riciclaggio anche abbassando il livello di segretezza bancaria e attraverso forme che possano consentire appunto di combattere la criminalità ovunque operi è chiaro che la convenzione di palermo obbliga tutti i paesi a adottare una normativa che preveda l'organizzazione criminale e quindi combatte le organizzazioni criminali ovunque operino non l'associazione mafiosa l'associazione mafiosa diciamo è una conquista propria della cultura giuridica italiana che ha guardato il fenomeno lo ha studiato e lo ha contrastato non solo attraverso specifiche fatti specie penali ma anche attraverso forme investigative che sono tra le più avanzate del mondo quel che ha l'Italia oggi non ce l'ha nessun altro paese del mondo sia come fatti specie penali sia come strumenti investigativi e l'Italia questi li ha acquisiti fin dal 1980 li ha migliorati poi nel 1990 via via li ha affinati negli anni successivi e l'Italia ha avuto devo anche dire dei magistrati degli appartenenti alle forze di polizia di un grandissimo valore anche culturale etico che si sono dedicati allo studio dei fenomeni e hanno individuato fatti specie e strumenti che in altri paesi ancora oggi non esistono devo dire che nell'America per esempio centro centrale in quella meridionale ci sono problemi serissimi di mafie sono mafie che ancora sparano sui territori e che si presentano con veri e propri eserciti mafiosi è una mafia di una violenza di una crudeltà veramente straordinaria e d'altro canto sono quelle mafie che producono la cocaina sono quelle mafie che gestiscono i traffici a livello mondiale nei confronti di quelle mafie quei paesi ancora non hanno la forza di debellarle gli stati uniti più volte hanno tentato di entrare con i loro eserciti anche per abbattere la forza mafiosa che è una vera e propria forza militare che va ben al di là di quella che si può riscontrare nel nostro paese nel nostro paese anche quando la mafia è stata una mafia stragista la mafia non si è mai permessa di andare in giro armata sparare in aria o costringere il paese con la propria forza di polizia a chiudersi in determinati quartieri questo invece è quello che avviene in alcuni paesi nel centro e sud America ecco che in quei paesi certamente occorrerebbe che il mondo possa intervenire e guardare in modo da dare il sostegno che quei paesi meritano ecco a proposito di prospettiva mondiale uno dei tratti distintivi della storia delle mafie italiane è la loro appartenenza religiosa per così dire al cattolicesimo ecco in Vaticano abbiamo organizzato un gruppo di approfondimento sulla scomunica alle mafie pronunciata da Papa Francesco che è un argomento molto complicato che prevede l'approfondimento dottrinale e azioni concrete per sviluppare a livello internazionale questa 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 volontà di dover rompere definitivamente i rapporti i rapporti insomma i possibili le possibili aree di contiguità che ci sono state anche nella storia tra cattolicesimo e mafia quale pensa sia di fronte a un lavoro di questo genere la reazione delle organizzazioni mafiose e quale beneficio possono trarne le polizie e le magistrature beh io credo che sarebbe epocale un intervento della Chiesa sulle mafie sarebbe epocale perché le mafie tendono a legittimarsi attraverso la Chiesa ma le mafie tendono a manifestarsi alla comunità nella quale operano come credenti come soggetti pienamente inseriti nell'ambito della comunità anche religiosa il posto in cui fanno in cui vivono proprio perché essere vicini alla Chiesa per loro è un modo di legittimarsi da sempre i capi cosca tendono a sedere in una Chiesa al primo banco tendono ad avere rapporti privilegiati con il parroco tendono a effettuare donativi anche consistenti nei confronti della comunità ecclesiale non perdono occasione per manifestarsi come particolarmente coinvolti nelle attività di beneficenza laddove ci sono possibilità di questo tipo le mafie intervengono perché quella è la modalità per essere anche più vicini alla comunità quando si parla del consenso sociale si fa riferimento ad un modo di essere le mafie che mentre in alcuni momenti utilizzano la violenza anche con ferocia e poi quando devono mantenere i loro rapporti con le istituzioni e con la Chiesa come prima istituzione tendono a mostrarsi rispettosi delle istituzioni e vicini ad esse il mafioso è colui che vuole utilizzare le istituzioni per crescere nel consenso sociale e d'altro canto è quel che avviene in ogni occasione in cui la mafia può manifestarsi cito come esempio non che abbia un collegamento con la religione ma per sottolineare quale sia l'importanza che le mafie danno al rapporto con le istituzioni quando l'andrangheta aderì a quel progetto stragista degli anni 93 94 le stragi continentali Cosa Nostra invitò l'andrangheta a partecipare l'andrangheta iniziò a dare corso a questa partecipazione attraverso il duplice omicidio di due carabinieri e l'aggressione ad altri carabinieri che però si risolsero in tentati omicidi dopodiché si riunì tutta l'andrangheta con i propri capi coschi in una grande riunione e decise di tirarsi fuori da quel progetto e la motivazione fu che l'andrangheta stava bene con le istituzioni e quindi non poteva rompere quei rapporti ecco le istituzioni per le mafie costituiscono oggi un diciamo un momento di grande importanza proprio per rappresentarsi anche alla comunità in cui operano come un riferimento che può essere anche serio sotto questo profilo proprio del rapporto con le istituzioni e tra le istituzioni la istituzione religiosa è la più importante non vi è mafioso di rilievo o un dranghetista di vertice che non abbia la propria bibbia sul sul comodino che non abbia il Vangelo che cioè non dimostri anche nell'ambito della propria abitazione di essere osservante delle regole della Chiesa ma in sostanza sono coloro che la violano quotidianamente momento per momento quindi il capo mafia o come dire entra in una sorta di schizofrenia per giustificare Bibbia e la sua azione oppure per durare visto come diceva prima come dire ha una sua nell'affiliazione nell'accesso all'organizzazione mafiosa c'è il giuramento c'è una una dimensione un rapporto col sacro un rapporto evidentemente con la morte con l'idea della morte della minaccia di morte ecco evidentemente c'è anche è un po' romantico dirlo o è vero che c'è un'etica un'etica religiosa in qualche modo una forma ideologica idolatrica all'interno dell'organizzazione mafiosa tale per cui comunque la dimensione religiosa stabilisce una morale cioè loro si sentono nel giusto in qualche modo conciliano bene la fede il messaggio evangelico con ciò che loro fanno hanno un'idea di fondo che confonde il il sacro con il profano il loro modo di sentire la fede è un modo fondamentalmente pagano loro apparentemente hanno la bibbia il vangelo ma poi nell'agire umano sono pagani perché per loro la regola della solidarietà della carità del rispetto è qualcosa che non esiste o se viene attuato è soltanto per rappresentare la loro potenza e quindi la loro capacità economica non una capacità effettiva di sostegno quindi non vi è nessuna condivisione dei valori che la religione cattolica porta avanti sicuramente non c'è umiltà non c'è comprensione non ci sono quindi quei principi che fondano la nostra religione e quindi tutto è apparenza per cui è un modo di vivere la religione cattolica da pagani sostanzialmente molti credono che legalizzando le droghe o leggere o pesanti si riesca a colpire definitivamente le mafie questo è vero o non è vero beh è relativamente vero perché è evidente che laddove le mafie si si vedono chiudere un campo che è un campo redditizio ne aprono subito dopo un altro quindi significa semplicemente riversarsi su altri settori e poi una legalizzazione di tutte le droghe mi sembrerebbe qualcosa veramente di contrario un po' alle esigenze anche di come dire di sicurezza di salute che pure bisogna guardare sempre la liberalizzazione si era detto delle droghe leggere poteva essere utile nell'ambito delle risorse di cui si dispone in modo da poterle riversare tutte nel contrasto ai droghe pesanti ai grandi traffici della cocaina dell'eroina cioè laddove vi è un maggiore guadagno da parte delle organizzazioni mafiose e laddove c'è la partecipazione di cosche a livello anche verticistico quindi voler concentrare l'attenzione sul contrasto ai grandi traffici di droga ecco quale poteva essere la base di un ragionamento di questo tipo uno dei grandi fenomeni dell'età contemporanea e che tragico uno dei grandi tragedi anche del tempo contemporaneo sono le migrazioni le migrazioni dei popoli ecco un argomento sul quale ancora manca una cultura politica seria e che viene spesso strumentalizzato in modo anche becero diciamo diciamoci le cose come stanno dove entrano nel fenomeno delle migrazioni le organizzazioni criminali e mafiose beh le organizzazioni mafiose laddove ci può essere l'esigenza di organizzare residenze o organizzare gli appalti che appunto sono collaterali rispetto all'immigrazione non specificamente nell'immigrazione non sono le mafie fra gli organizzatori né fra i soggetti che trafficano i migranti le mafie si occupano di altro quindi diciamo che è tutto ciò che l'immigrazione determina e quindi ancora una volta interessa interessa le mafie l'infiltrazione dell'economia e quindi degli appalti che di volta in volta possono essere gestiti al fine di portare avanti questo grande affare dei migranti perché è divenuto oggi un grande affare in cui viene investito molto danaro e probabilmente l'immigrazione andrebbe affrontata in modo da far intervenire tutti i paesi in modo da rendere solidale l'Europa tutta ma al tempo stesso controllando che di volta in volta sussistano i presupposti per una immigrazione che cioè possa essere realizzata una immigrazione regolare un'immigrazione che consenta l'identificazione delle persone che e quindi possa rispondere alle esigenze dei popoli di una vita migliore se questi principi fossero rispettati da tutti probabilmente anche l'immigrazione non avrebbe questa emergenza o non sarebbe l'emergenza che oggi invece si presenta quotidianamente penso anche che l'immigrazione andrebbe sostenuta intervenendo nei paesi all'origine e con le Nazioni Unite probabilmente occorrerebbe un lavoro da sviluppare in Africa per esempio laddove vi sono esigenze di sopravvivenza esigenze di salute occorrerebbe un maggiore investimento per dare a tutti un livello di vita che consenta di andare avanti con serenità è inammissibile che ancora oggi in alcuni paesi in Africa si muoia per fame o che ci siano bambini che muoiono perché non hanno la medicina o che ci siano epidemie che non vengono affrontate o che non ci sia l'acqua per tutti o che non ci sia da mangiare per tutti credo che probabilmente il primo problema che il mondo dovrebbe affrontare è proprio quello di assicurare a tutti un livello di vita che consenta di andare avanti con serenità è recente la scarcerazione di Giovanni Brusca ecco molti si chiedono come sia stato possibile e a proposito di questo le chiederei se anche all'estero c'è una una legislazione una procedura una normativa sui collaboratori di giustizia il collaboratore di giustizia rappresenta uno strumento fondamentale nel contrasto alle mafie d'altro canto proprio Giovanni Falcone ancora una volta è stato il promotore di quella legge che entrò in vigore nel 1991 la legge sui collaboratori di giustizia utilizzare cioè coloro che erano stati all'interno dell'organizzazione perché più di chiunque altro avrebbe potuto spiegare cosa era l'organizzazione quali erano i fatti commessi quali erano i partecipi ad essa ecco proprio sulla base dell'esperienza che Giovanni Falcone ebbe si è portato avanti il progetto che poi è divenuto legge sui collaboratori di giustizia negli Stati Uniti già esisteva tanto che Tommaso Buscetta iniziò a collaborare negli Stati Uniti e l'Italia non aveva una disciplina di questo tipo tanto che la gestione dei collaboratori diventava una prassi che molto spesso era dissimile sull'intero territorio nazionale a seconda della procura che gestiva il collaboratore il collaboratore ha rappresentato l'unica fonte attraverso la quale poter scardinare la operatività delle mafie e l'unica fonte attraverso la quale arrivare a comprendere quale fosse la composizione delle mafie e quali i fatti che ad essa erano riconducibili pensiamo alla capacità che hanno avuto i collaboratori di giustizia di consentire la ricostruzione della strage di Capaci della strage di Via D'Amelio delle stragi continentali Roma Firenze Milano sono state stragi che hanno trovato una definizione nell'ambito delle responsabilità solo grazie ai collaboratori di giustizia solo attraverso il loro contributo il loro apporto è stato possibile identificare gli autori i mandanti gli esecutori e ancora oggi siamo alla ricerca di ulteriori elementi che ancora probabilmente devono essere verificati ma il collaboratore è l'unico strumento che consente il contrasto alle mafia effettivo le stesse intercettazioni che costituiscono l'altro strumento di cui si si può avvalere nelle indagini è uno strumento che consente di rilevare soltanto in parte alcuni aspetti che riguardano le organizzazioni mafiose proprio perché attraverso le intercettazioni si riesce a trovare un segmento che è solo un aspetto non si avrà mai il quadro complessivo dell'organizzazione attraverso un'intercettazione anche ambientale il quadro complessivo lo si può avere solo attraverso l'educazione di collaboratori e d'altro canto per le mafie l'aspetto che connota in modo assoluto l'operatività mafiosa e l'omertà e l'omertà non viene battuta se non attraverso la dichiarazione di qualcuno che è disponibile a farlo e chi è disponibile a farlo colui che può pensare nel momento stesso in cui è stato raggiunto da gravi quadri probatori e quindi è esposto a condanne anche rilevanti o al carcere a vita ecco nei loro confronti si può pensare a trovare collaboratori di giustizia e sono quelle le fonti più significative per poter poi ricostruire fatti storici di estrema gravità e Brusca è stato uno di questi un collaboratore di giustizia che ha riferito proprio sulla strage di Capaci sulla strage di Via D'Amelio ha riferito sulle stragi continentali ha riferito chi ha partecipato chi ha deciso dove è stato cercato l'esplosivo chi lo ha dato chi ha premuto per far saltare in aria l'esplosivo e via via ha ricostruito una realtà che altrimenti sarebbe stato impossibile conoscere ecco perché è stata importante la collaborazione di Brusca e peraltro è vero che ha commesso tantissimi omicidi è anche vero però che nell'ambito del nostro sistema la continuazione fra i vari reati determina un aumento che comunque non può arrivare a superare un certo limite di pena e quindi comunque laddove viene escluso l'ergastolo la pena deve essere contenuta nei 30 anni e in ogni caso si sarebbe avuta una pena come quella che gli è stata combinata e una diversa soluzione sarebbe stata impossibile perché il collaboratore di giustizia deve avere le attenuanti che la legge prevede e la legge che lo ha previsto d'altro canto sarebbe impossibile pensare ad una legge che viene applicata a singhiozza a seconda del soggetto a volte è vero che ci si trova di fronte anche alla difficoltà di accettare alcune scarcerazioni quando colui che ne beneficia è stato autore di fatti gravissimi di una ferocia inumana è anche vero però che la legge è uguale per tutti la legge deve necessariamente trovare applicazione e che i paesi democratici sono paesi nei quali il diritto costituisce la base proprio per il funzionamento per lo sviluppo per il progresso della stessa democrazia in questi giorni si sta discutendo dell'ergastolo sull'ergastolo ostativo allora il signor procuratore le chiedo di definirlo per chi non conosce questa definizione e qual è la sua posizione in merito perché insomma come è chiaro è evidente si ritiene che se è il 41 bis il carcere duro sia il ergastolo ostativo siano delle misure lesive dei diritti umani ecco quindi le chiederei appunto una definizione di carcere ostativo per chi non la conosce e qual è la sua posizione rispetto all'utilità l'ergastolo ostativo è l'ergastolo che viene combinato nei confronti diciamo dei mafiosi e dei terroristi e esso non consente benefici penitenziari e quindi non consente di tornare in libertà mai per cui l'ergastolo ostativo appunto quello combinato ai mafiosi e ai terroristi è quell'ergastolo in cui il fine pena è mai è terribile sentirlo il fatto che non ci sia nessuna altra possibilità di chiudere il periodo di carcerazione purtuttavia esso nasceva da quelle disposizioni che vennero studiate per contrastare al meglio le mafie in particolare i mafiosi che si erano resi responsabili di omicidi gravissimi l'omicidio è grave di per sé però era una strategia quella omicidiaria della mafia laddove vittime diventavano tutti coloro che per qualche motivo si erano posti contro la mafia e quindi lo Stato è stato come dire quasi costretto a trovare delle misure straordinarie e fra queste appunto l'ergastolo o stativo cioè l'ergastolo per i fatti di cui si erano resi responsabili i mafiosi e il carcere duro vale a dire un sistema carcerario diverso da quello ordinario molto controllato il carcere che avrebbe dovuto impedire ai mafiosi le comunicazioni con l'esterno quel che era stato accertato era che i mafiosi nel momento in cui entravano nel carcere attraverso le forme ordinarie di trattamento penitenziario e soprattutto i colloqui riuscivano a mandare fuori messaggi attraverso i quali continuavano a gestire la cosca di appartenenza pur stando all'interno del carcere e quindi vennero assunte delle misure straordinarie che impedissero ai mafiosi di proseguire nella gestione della loro cosca della cosca di appartenenza e la corte costituzionale ha ritenuto per quanto riguarda l'ergastolo ostativo in violazione della costituzione stessa il fine pena mai e questo in ossego al principio della rieducazione che la pena ha in sé e quindi è impossibile pensare ad una carcerazione che duri per sempre che non abbia una sua rieducazione che non abbia una capacità di cambiare il detenuto e la corte costituzionale quindi ha dato tempo un anno al legislatore per l'individuazione di una norma che consenta al mafioso di recuperare la libertà sempre che venga fuori dal contesto mafioso di appartenenza sempre che vi siano delle prove chiare certe che il mafioso non ha più contatti con l'organizzazione mafiosa sempre che cioè abbia reciso con certezza i propri legami con l'organizzazione mafiosa ecco e laddove quindi vi è stato un passaggio da quello che era il detenuto condannato al detenuto invece che ha espiato una pena notevole e da un momento da un certo momento in poi chiede che venga riconosciuto il suo essere diverso ecco la corte costituzionale quindi ha dato questo tempo al nostro paese e ora il legislatore dovrà trovare una soluzione legislativa che individui i presupposti attraverso i quali il detenuto può chiedere di tornare in libertà ma vede il problema per il mafioso è che il mafioso quando è entrato a far parte dell'organizzazione mafiosa ha fatto un giuramento e il mafioso resta mafioso sempre a meno che non abbia rotto non abbia come dire dato ampia prova di una frattura rispetto al mondo di appartenenza a quel mondo mafioso e il collaboratore giustizia questa frattura la evidenzia con le dichiarazioni le dichiarazioni del collaboratore giustizia sono delle dichiarazioni di guerra rispetto all'organizzazione mafiosa che il collaboratore accusa denuncia consente la ricostruzione gli arresti e quindi certamente il collaboratore di giustizia non potrà mai più entrare a far parte dell'organizzazione mafiosa ma certamente ha rotto con l'organizzazione mafiosa la difficoltà ora sarà trovare degli elementi che costituiscano il presupposto per un recupero della libertà ma che siano come la collaborazione con la giustizia elementi certi della frattura con l'organizzazione mafiosa non sarà sicuramente facile purtuttavia necessariamente va fatto non solo perché la corte costituzionale lo ha detto ma perché la nostra costituzione lo prevede ed è certamente un principio di civiltà affermarlo laddove però vi siano effettivamente elementi dimostrativi della frattura rispetto all'organizzazione mafiosa di appartenenza signor procuratore la ringraziamo molto grazie grazie